ciao a tutti ragazzi bentornati ad una nuova decklist sul canale sempre qui dal multiverse of games, la casa del collezionismo, la casa, ciao amici, ciao amici, bravo Patrick, vabbè ragazzi siamo qui con Bruno Bertolino che ci porta oggi il mazzo più forte del meta, ci risociamo tutti, chi ha vinto il nazio è il loro muti, zitti, no wonder is, è ammucchiata i coglioni, ma Bartolini? no Bartolini no, sì è forte, va bene dunque partiamo con questa lista del mazzo, l'uccello più bello del mondo, tre robina, tre robina, ma lo sai che se lo riprendi a Cimi poi non puoi fare Zeus? eh diciamolo diciamolo, qualcuno potrebbe aver fatto una top, qualcuno ci ha trassato, non diremmo dove arriva, non è cosa fanno, però qualcuno ci ha trassato malamente, va bene, magari involontariamente, già a seguito che gli hai dato ragione il giaggio, magari non volontariamente dai, sono accorto che non ho fatto top per quello, perché non mi ha trassato, possiamo dire che anche Pacciani ha fatto le cose involontariamente, sì 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 era una brava persona, aquilotto, carta fortissima, d'altronde fai 1-2 e l'opo mucchia per forza, per forza, troppo forte, doppio struzzo, perché, per forza, entlish player, gli banni i goldoni, suca, tre pezzi e si sborra, e si sborra, e io ne gioco due, leccamelo, il tucano, carta bellissima, ha delle cose bandite, ci ha dato Alello che ha fatto top, lui è il tucano, madonna che bello, fortissimo, due nazi pinguini, due, due, forza, non è uno per turno e si va a smanello, più che altro se becchi nivelli è bello avere il secondo, puoi fare gli infiniti a turno, ha di infinite carte, è stupendo, carta bellissima, ringraziamo tutti i mazzi che perdono da questa carta, quindi tutti tranne, penso, quanti archetipi non portano da, da sotto dentro, tribellini, ci sono anche quei perdenti, ci sono anche quei perdenti, ci sono anche quei perdenti che mi fanno, fermi, skill drain a bucchia sta carta, si pesca solo archetipi, poi mi fai un pompino, comunque con questo assetto carta, i perdenti mi fanno grifone, buco of moon, è un bucchia, scemo, poi e via questo, giochiamo il monarca più bello di tutti, e gli dici, zitto, zitto, e ci questo, salutiamo ancora Dino che si è preso 8000 cifre, perché lui me lo riadde in mano, ho cimitero vuoto e te lo ricalo e tu stai zitto, che bello, carta più forte del mondo, lui lo tiro un botto, è fortissimo, regazione di archetipo, un borro, stupendo, di archetipo, questa è la carta di archetipo, questa è la carta di archetipo, qua ci alziamo in piedi ed esce lui, l'unica entrap che merita di essere giocata, regazione di archetipo, giochi e altri entrap, sei un perdente, mi dispiace, salutiamo il campione, no non serve a nulla, giri lui, vinci, non lo giri, hai perso, mi dispiace, è abbastanza facile, è abbastanza vero, non servono altre, mappa, mandatorio quando lo attivi, fai effetto, ti mostro il mio uccello, banno uccello, se non dici questa frase perdi, per forza, la carta più forte del mondo, puoi slowplayare, ma io non lo faccio, salutiamo Montagnere, salutiamo, ciao Montagnere, guadagno infiniti, è solo scaso, è solo slowplay, è solo scarso, guadagno infiniti age points, addi la mappa, addi pezzi, ti fanno entrap, tu glielo butti nel culo e addi due carte, quindi mostro uccello, banni uccello, anche lì no, cos'è che è? banni uccello, addi uccello, banni uccello, addi carta, flow wonder, mostro o terreno, fortissimo, e va bene, quella carta deve sbannare, la mono più forte di tutti, tributo in qualsiasi cosa, ti fanno skill drain, la tributi, ti fanno mina, la tributi, ti fanno persona immune da tutto, la tributi, che cazzo vuoi fai? no, sei immune, il coglione che giocate, ma gli anzi non lo sanno, ti evo calcolate per io lo tributo, ma il coglione che giocano in punk, dai lo togli, dai fuori dal cazzo, con i perdenti, carta del archiettipo, porco dio, chiunque l'assulta, chiunque l'assulta non la gioca, quindi siete dei perdenti, giocate le vicende, è abbastanza facile, io in tutto il torneo ne ho calata una, e ho perso, ok, esatto, contro il mio padre, vabbè lei ci sta, perché è figa, perché si, poi, ti puoi avere una quarta mia, insomma, dato che tutti i polli non ti addano carte, mettiamo carte per andare, perché la consistenza ci fa schifo, ma sì, tanto, guardi l'oppo, gli dici, oh mi serve questa carta, la giri di lui, e ammucchia, scemo, scemo, perfetto, per salvarmi i polli, questi, perché le magie raffine non bastano, la rigiocheresti? Sì, sì, ti è piaciuto? Sì, perché contro Despia, quando mi fanno miraggi del pisello, glielo setto, ma è anche interruzione, è interruzione, non lo gioco a nessuno, oppure fai, sta tu, setto questo a passo, evocano Grifone, ripeto, e ammucchia, perché sono dei vergoglioni, oppure quelli che giocano Despia, e non capiscono un cazzo, mi dispiace, evocano Pisellino di Albas, che lo senti, via, poi regoglioni, Pisellino di Albas? Sì, sì, proprio, vabbè, questa fa tutto, l'effetto al cimi, nessuno se lo ricorda, tu glielo tiri, e la gente ammucchia, facilissimo, e poi io gioco la carta speziata, perché è il cazzo durissimo, di me, in tre per, dato che perdi i dadi, i veli match, e l'ho, e l'ho a mucchia, fortissimo, ci sta, tra l'altro mio padre che ha vinto, che tira questa, poi un tifone, e il coglione Despia perde, e godo, fortissima, per forza, passiamo alla side, perché l'extra tanto è inutile, scusa, fammi vedere la carta più forte dell'extra deck, vediamo se ce l'hai, no, no, se la giochi, non è quello che intendevo, la goddess, Link 5, no, vabbè, facile, non la gioca perché non ce l'hanno, vabbè, guardiamolo, schifo, 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 non li ho mai usati, via, ma è incredibile, è solo bello, lei fa cose, la decce, la decce ragazzi, uno gioca, due empe, vabbè, certo, nessuno sa che è empe, ma è questa, mi ha detto di giocarlo, ma ancora non ho capito, in teoria, se ti becchi un sumano, l'ho capito, vabbè, questa la metti sotto bambina con le fiume, ma tanto non lo fai, questo si è preso un fleur d'alisi in faccia, vorrebbe segnare, va bene, mi ha detto di giocarlo, e non so perché, perfetto, grazie, tanto sono cose da bucci, tanto, era bello, questi facevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, è servito l'extra, perfetto, andiamo al size, carta più forte, che verrà bandita di sicuro, ma lo spero, no, prima ne ho 9 da vendere, prima, ah, prima vendita, non bannate la camaturale, però è figa, ci ho vinto anche il mirror con questa, quindi ci sta, troppo forte, no, non ti fanno entra, ma non fanno cazzo, lei che va bene, non l'ho mai messa neanche, mi sta sui buglioni, lei, lei era carina, e per avere una di più di questa, sì, quando togli terraformi che è una, metti questa per il mirror, sì, sì, e poi la carta che mi ha fatto vincere, tutti i match, contro i miei padroni che giocano, Edric, l'Irp, l'ho pescata, sempre, l'ho tirata, sempre, ho tkpato, sempre, via mucchia, questa a zero, Kodami, via mucchia, saluto a mio fratello che fa spolverino, che gli faccio spolverino judgment, e ti tiro questa nel muso, è un mucchia, ti saluto, tanto bene, troppo bello, questa violenza su Giebic, player, è giustificatissima, stai zitto, mi sembra di essere stato violente un po' con tutti, saluto il mio fratello, questa è bellissima, ti fanno le carte brutte, come quelle che gioca a lui, e tu gliele togli, l'Irp, e a mucchia, ah, ah, ho visto un'altra carta bella, questa mina, come è la combo di questa, scusami Bruno? allora tu sei lì, no, l'espia player del cazzo, fa la sua combo di merda, no, fai anche i pacteri, no, ma i pacteri non l'ho trovato, ah sì, vabbè, chiunque fa una board forte, tu lo guardi e dici, minchia, mi stai battendo, l'Irp, mina, a mucchia, muore dal cazzo, e sei zitto, e se ti giro rondina e risolve, succhiami il pisello, poi c'è la carta che togli, che è Seymour, che non serve una mucchia, proprio a niente questo, ma tipo contro il d'avno non è forte, è una merda, non serve contro, l'ho giocata forse contro Sky, beh, ci sta, ci sta, sì, poi si è beccato anche ora, però vabbè, vabbè, ma sì, ma non, la toglierei per la seconda statua, va bene, fai due statue e l'ho a po' a mucchia, vieni, sono del team più forte di tutti, vaffa al pull a tutti gli altri, l'appretizer, salutiamo il nostro sponsor, S.Lunga, grazie, grazie, grazie signori, un bacione, S.Lunga fa nome lo sponsor, chiamaci, signor Sampotti, ci sentiamo, a rivederci, grazie, grandissimo, anche perché sono obeso, con tutti i soldi che vi ho dato, cazzo, almeno, ho fatto schifo a Nazio, però vabbè, ci stava, vabbè, ci stava, dei 1 ero 5-1, mi stavo galvanizzando, poi ho trovato, Flor D'Alisi in faccia, volevo picchiare l'opo, me ne sono andato, l'irmo, sono andato al D2, ho preso il pisello, vabbè, ci sta, dai, comunque, sei andato al D2, che male, dai, si vive bene, top, sì, vabbè, proprio monazio, dai, su, 1400 giocatori, guardate che ragazzi, arrivare già nei primi mille, vuol dire, ma puoi non arrivare nei primi mille, con queste carte, dai, guarda che belle che sono, a mucchia, e stai zitto, esatto, sì, un saluto, va bene, qualche cambiamento, che faresti alla lista, a parte, abbiamo visto la side, allora, ho visto mio fratello, che giochi judgment, e li voglio, perché li ho gold ghost, e li devo mettere, per forza, molto interessante, cicloni e tifoni, puoi intercambiarli, come cazzo vuoi, ragazzo che ha vinto un app, sul tuo grande fan, no, io stavo urlando, eravamo in Twitch, a guardare la finale, le semifinali, impazzino, io chiedo scusa, al secondo classificato, ma l'ho insultato tantissimo, tantissimo, per farlo a vincere, per favore, eh? Cosa faceva sua madre? Ti dissocio, e nel dubbio, si scherza, è mio fratello anche tu, dai, lo salutiamo dai, suo padre, e suo fratello, Bruno, una domanda, la sto ascoltando, secondo te, se dovessero toccare, una qualcosa a Flander, perché sappiamo, che lo toccheranno, tranquillo, cosa toccheranno, secondo te? Mina o trappolar via, la statua, secondo me, non ha senso, perché tanto evochi picchi giochi, contando che, secondo me, Mina la toccheranno, per altri motivi, perché la trappolar via? Perché è fortissima, te la giro perdi, per quale motivo? La giro non gioca, perché è proprio una carta, che fa Ftk, no? Chiedo, che non può essere, canterato, che non può essere, che non può essere, che non può essere, sorbo, poi, Bruno, oltre a tutti questi ringraziamenti, c'è qualche bare barista, nello specifo, devo allungare il video, non solo per la monetizzazione, prima, fermo un attimo, il mazzo 51, chi te l'ha prestato? Io, fra mio padre, ho scopolato tutti i suoi fratelli, quindi sono qui, chi te l'ha abitato? Oh, e se mi avessi scopolato, guardate le bus povino, io lo toglievo, di mano subito, non era tuo, Succa, era di GTA, fammi un po' pino, ringrazio, due persone, la prima venerdì sera, cammelita, mia sorella, no, mia sorella, tua madre, mia madre, i suoi due litri di sangria, che ho bevuto, come fossero acqua, io da Carmela, mi sei fatto allattare, ma mi pare che mi vuole, e poi voglio, ironicamente, comunque, no, no, ci associamo qua, ma che cazzo, ironicamente, no, no, è un po' misogeno, salutiamo poi, Luicia, quella stronza del sabato, che non mi ha dato la pasta, alle tre di notte, con quella avresti topato, Bruno, sono piantati, un po' il culo, un ringraziamento, io che ti ho svegliato, per uscire, e vabbè, dobbiamo ringraziare un po' tutti, per la festa incredibile, Birne, mio padre, Matteo, mio fratello, è un team fantastico, e neanche tu, a far parte, dell'Appetizer Team, un team, un team, ma regato, è divertente, va bene, grazie ragazzi, un bacione, così, mi dà da mangiare, capito, capito, va bene, qualche altro ringraziamento, qualche saluto particolare, ciao mamma, va bene, perfetto, signori, grazie, e al prossimo video, ciao, ciao,